È un cane che arriva dalla Calabria, è un pastore tedesco, molto mite e molto docile. I suoi primi anni l'ha passati come cane randaggio. Finalmente due anni fa Rex è stato adottato da un ragazzo militare. Purtroppo questo ragazzo è stato colpito da un infarto e gli è morto davanti ai suoi occhi. Rex da quel momento lì ha cambiato un pochettino il suo atteggiamento in quanto è sempre stato triste. Solo adesso si sta un po' riprendendo ed è un cane molto mite, affettuoso, ha bisogno proprio della presenza dell'uomo. Pertanto chiediamo per lui un'adozione proprio del cuore e quindi vi prego di chiamare e chiedere di lui per venirlo a conoscere. Ma vi rendete conto del dolore che c'è in questo momento nel cuoricino del nostro Rex? Lui che si era finalmente illuso di avere un amico con il quale condividere la vita. Questo giovane che lo amava tantissimo e che purtroppo se n'è andato davanti ai suoi occhi. E i nostri animali hanno una sensibilità straordinaria, hanno un grande cuore, hanno la capacità di provare sentimenti proprio come noi. E così Rex non si è ancora ripreso da quello che per lui è veramente un lutto. Perché questo ragazzo era il suo papà, era il suo amico, era tutto il suo mondo. Era colui che l'aveva portato via da quel canile dove si trovava. E io credo che Rex più di tanti altri in questo momento abbia bisogno di voi. E quindi io voglio darvi subito il numero di telefono per adottare questo cagnolone maestoso. Il 338 8374 324 Oppure